Dati significativi, importanti dell'offerta che il Comune di Cava dà ai giovani sia per la Biblioteca Comunale ma sia anche per le attività che si svolgono all'interno della Mediateca. Sì, abbiamo fatto questa conferenza stampa stamane e i dati sono significativi. Biblioteca ha più di 4.000 presenze che segnano il raddoppio dal 2009 ad oggi dei giovani che frequentano quotidianamente la nostra Biblioteca, che accedono al prestito interbibliotecario, che sono seguiti nello studio, accuditi soprattutto i giovani universitari quotidianamente dal personale della nostra Biblioteca che fa un grande lavoro e dati assai significativi anche alla Mediateca cittadina, dove ormai tantissimi giovani il pomeriggio si recano a studiare ed utilizzano anche quotidianamente gli strumenti della moderna conoscenza e quindi le banche dati, l'accesso a vari siti tramite abbonamenti, ovviamente il wireless e quant'altro. Un'occasione per mettere insieme questi due momenti di offerta giovanile e per rilanciare un'altra iniziativa che l'amministrazione realizzerà nei prossimi giorni e cioè la concessione da ottobre in poi al Forum dei Giovani della sede della ex Casa del Balilla del club universitario cavese che deve tornare ad essere una struttura di incontro delle giovani generazioni per cui destinata esclusivamente al Forum dei Giovani. È una cosa importante questa perché i giovani hanno bisogno di una vita di relazione, hanno bisogno di luoghi di incontri come già lo sono per il loro studio la Biblioteca e la Mediateca ma hanno bisogno di incontrarsi anche al di là del mondo mediatico, di Internet, Facebook e quant'altro perché più c'è socialità, più c'è cultura, meno spazio c'è per le devianze. Questo è un compito importante che come amministrazione ci proponiamo e credo che i risultati che stiamo portando siano assai significativi.